Organizzatore del trofeo Maxi Scooter, seguiamo intanto la procedura di partenza Dopo daremo il giusto benvenuto a Ortenzo, ora occhi puntati sul rettilineo di partenza per Il primo pronti via della giornata, ricordiamo Diego Guerra, Marvin Mendogo, Ermanno Pazzanini e Giovanni Gabrielli In prima fila, tutto ok, ma anche dal fondo dello schieramento siamo pronti per... Grazie a te, è sempre un piacere